Ciao Giancarlo, Giancarlo Valletta, responsabile della comunicazione di Audiogamma, uno dei più importanti distributori del mercato hi-fi e anche video per l'Italia e ti chiamo perché ho saputo recentissimamente che avete aggiunto un nuovo tassello alla vostra distribuzione che è il marchio Paradigm che si aggiunge ovviamente all'altro brand che già avevate preso da poco che è Anthem che sono due marchi di un produttore cadanadese molto importante, Anthem ormai conosciamo benissimo pre-decoder, amplificatori anche Dolby Atmos spettacolari e appunto si aggiunge Paradigm da pochissimo. Tra l'altro c'è una, scusami se ti interrompo Emilio, ma c'è una cross-connection molto interessante perché Paradigm utilizza l'ARC di Anthem, quindi l'Anthem Room Correction che è stata sviluppata dal National Research Council canadese insieme con Anthem viene utilizzata anche da Paradigm per fare la correzione ambientale dei subwoofer e dei due modelli di diffusori che ibridi, quindi Persona 9H, entrambi i diffusori ibridi hanno un engine DSP molto simile a quello delle Martin Logan grosse che hanno la parte bassa amplificata. Tra l'altro c'è qualche punto in comune tra le due linee perché qualche modello da esterni di Martin Logan è uguale a Paradigm, molto simile a Paradigm, però questa è una curiosità ecco. Certo, è interessante. Comunque adesso Paradigm, JBL che avete già, B&Dev, Martin Logan e Vivid, 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 Vivid. Stesso cinque marchi di diffusori e mi hai detto che saranno adesso a Rimini. Saranno a Rimini, sì, saranno a Rimini la serie Founder che è una serie uscita poco prima del Covid, quando noi non ce l'avevamo ancora in distribuzione del marchio e quindi chiaramente per questione di Covid poi è stata distribuita, cominciata a distribuire adesso e sarà in anteprima tramite il supporto di Audio Quality che ci rappresenta in modo assolutamente degno a Rimini. Quindi chi vuole cominciare a sentire, dimmi, scusa, sì. Dico sì, so poi che sarà, in pratica parliamo del prossimo weekend, ovvero sabato 26, domenica 27, noi di AV Magazine saremo lì per un reportage, per fare un po' di incursioni a gamba tesa nelle varie salette e so che sarà all'interno di un impianto questa nuova serie Founder con l'integrato Rotel Nici, anche quello conosciamo molto bene, in una saletta solo stereo con musica in streaming di alta qualità, di tanta roba. E beh, certo, senza dubbio. E quindi niente, Paradigm tra l'altro è molto nota, una cosa che diciamo come appassionato di Hi-Fi mi è sempre piaciuta molto per i subwoofer, perché Paradigm, a parte le sei linee di diffusori tradizionali, le altrettante linee di diffusori, insomma c'è un catalogo assolutamente sterminato che riesce veramente a venire incontro a qualsiasi esigenza, ha anche tutta una serie di sub, tra i quali il sub 2, che è un affaretto da 6 woofer da 25 con un amplificatore da 9000 watt di picco e che raggiunge i 9 Hz a meno 3 dB, quindi un po' esuberante, come dire. Tu sai già che Cicogna già si è prenotato per un ascolto, quantomeno un ascolto di un sistema del genere. Sì, però Cicogna lo potrà ascoltare solo se si siederà sul subwoofer mentre suona i 9 Hz, perché lo voglio vedere saltellare. Ma a lei non c'è il problema, perché Cicogna, come sai, la discografia è piuttosto eterogenea, quindi sicuramente un organo che scende a noverse lo trova sicuro. Sì, infatti l'ho detto per quello, quello è il sub per Cicogna. E quindi niente, siamo contenti di aver preso Paradigm, l'azienda è molto bella ed è, tra l'altro, soprattutto con le quattro linee Hi-Fi, che poi strizzano l'occhio anche all'Untheater, perché hanno ovviamente tutte quante sicuramente un centrale e almeno un sub, non in tutte le linee ma in buona parte delle linee, e poi, diciamo, esprimono le varie esigenze che può avere il pubblico. Quindi dalla Monitor SA, che è la più piccolina, poi Premier Founder e Persona. Persona sono i top di gamma, sono dei prodotti davvero belli, personalizzabili, che hanno tutta una serie di... La cosa interessante di Paradigm, che forse è l'unica azienda che è riuscita a farlo in questo modo, a rendere la griglia del woofer e del Twitter o del mid-range, dipende poi dalle linee, un elemento attivo, quindi un elemento che, diciamo, rifasa il suono. E quindi non è solo vissuta come la griglia che attenua e quindi forse è meglio metterla, ma è una griglia che devi tenere per forza e che quindi leva anche dal dubbio amletico dell'audiofilo farmi rovinare dal ragazzino di turno l'altoparlante o tenere la griglia, qui la devi tenere per forza. E quindi, diciamo, è un approccio, diciamo, diverso dagli altri, però è interessante, secondo me è molto interessante. Va bene, io intanto mi vado a sentire questo weekend le founder e poi magari ti chiederò di mandarmi una lista di punti vendita dove saranno, dove sono o saranno in funzione le nuove Paradigme che distribuite. Grazie ancora Giancarlo e... Grazie a voi. Ciao. Divertitevi a Rimini. Ciao. Certo.